La SFA è una multinazionale francese, noi siamo la filiale di Casano, siamo la filiale italiana e presentiamo qui all'Aquila il nostro brand Granform, che è un brand specializzato sulle zone wellness. Quello che vogliamo fare qua all'Aquila è quello di far capire agli aquilani che hanno vissuto comunque un trauma abbastanza importante, che Granform progetta, costruisce dei prodotti che sono adatti alla portata di tutti, con dei costi molto contenuti, e quindi quello che vogliamo fare, visto che siamo in fase di ricostruzione, dare la possibilità oggi che ricostruiscono le proprie case, quello di poter inserire dei prodotti dove fino a ieri si pensava solo di averli dentro un grande albergo o solo nelle strutture adatte. Noi quello che abbiamo voluto fare è far conoscere la nostra azienda, il nostro brand, a tutti gli aquiliani per poterlo inserire nelle proprie case. Quindi questi strumenti, ho visto la piscina, vedo anche le boxe, no? Questo è un bagno turco, è un bagno turco che è un tre in uno, abbiamo la doccia, abbiamo l'idromassaggio e la possibilità di sfruttarlo anche come bagno turco, tenendo comunque sempre utile lo spazio di una comune doccia. Poi stiamo presentando una mini piscina con dei consumi molto ridotti, dove la possiamo inserire all'interno di un appartamento. Questa piscina è stata creata appositamente per essere alloggiata senza dover fare strutture di supporto per il peso, quindi nasce proprio per la caratteristica dell'appartamento. Questo è il nostro brand più importante del nostro gruppo, parliamo di Sanitrit. Sanitrit dà la possibilità di creare un bagno, un secondo bagno dove non abbiamo le colonne di scarico. Abbiamo una serie di prodotti che possono essere utilizzati sia utilizzando un comune, un WC e si applica una vaschetta, o addirittura abbiamo dei prodotti dove l'apparecchio non si vede perché è all'interno di una ceramica o all'interno di un muro e arriviamo fino a delle stazioni di sollevamento che sono dei prodotti un po' più professionali per più utenze e quindi andiamo a prendere il condominio o la piccola abitazione. Ringraziamo Giovanni Conju per questa spiegazione di questa azienda. Grazie Giovanni. Grazie a voi e grazie all'Aquila che ci ha dato questa opportunità.